Fra e Sandro sono in ritardo. Che ore sono? Sono le 12 e 20. Io non voglio perdere il treno, andiamo. Sì, è capace? Ragazzi, tutto bene? Benissimo, grazie. Avete bisogno di aiuto? No, no, tutto bene. Sì, grazie, molto gentile. Vogliamo andare ad Orta? E io voglio andare a casa. Due biglietti per Orta? Sì, grazie. Solo andata o andata in ritorno? Solo andata. Quando parte il prossimo treno per Orta? Alle 12 e 40. Prima o seconda classe? Seconda classe. Quanto è? 50 euro e 40 centesimi. Antonella, i soldi. I soldi? Da quali binari parte il treno? Binario 1. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Buon viaggio. Per ragazzi.